Ti sei mai trovato in quella situazione in cui messaggi con una ragazza ma lei o non ti messaggia proprio o ti messaggia col contagocce? Forse il problema non si ritrova nei messaggi e in questo video ti vado a spiegare il perché. Io sono Joe e questo è Seduzione Attrazione. Il problema potrebbe, ho detto potrebbe, perché potrebbero anche essere i messaggi, ma il problema quando le donne costantemente non rispondono a quelli che sono i tuoi messaggi sono o i messaggi che tu mandi e in questo caso se tu senti di avere un problema ti lascio il link in descrizione, ti metto un messaggio dove ti spiego passo passo cosa fare per portare i tuoi numeri di telefono ad appuntamenti. Oppure molto spesso, e questa è una variabile importantissima, il problema sta a monte in quella che è l'interazione e potrei parlarti per ore e ore di quella che è l'interazione e non esauriremmo l'argomento, però qui voglio darti tre dritte per migliorare in maniera veloce quella che è la tua possibilità di dare maggior sostanza a quelle che sono le tue interazioni con le ragazze che conosci. Prima cosa, estremamente estremamente importante, qualifica la ragazza. Cioè, poniti in una situazione in cui sei tu la persona che sta scrinando, sta filtrando, sta selezionando la donna, invece di ritrovarti nella posizione opposta che è quella dove si trovano la grandissima maggioranza degli uomini. In secondo luogo, aumenta quello che è il volume di rapport se ci sono le possibilità logistiche per farlo e qualora tu prendi il numero della ragazza, che è quello di cui stiamo parlando in questo video rimani, se possibile, cinque minuti oltre aver preso il numero perché questo, perché quando gli uomini prendono il numero scappano come se si ritrovassero in mano con una granata pronta a esplodere. Questo non è quello che tu vuoi fare ma vuoi prendere il numero, rimanere cinque minuti in più, mostrarti possibilmente curioso rispetto a quella che è la ragazza di modo che lei possa sapere che il tuo obiettivo non era prendere semplicemente il numero ma conoscerla meglio e quindi ci sono maggiori possibilità che lei risponda a quelli che sono i tuoi messaggi perché riconosce che c'è un interesse da parte tua in lei perché da un lato l'hai selezionata e dall'altro ti sei preso la briga dopo aver preso il numero di conoscerla maggiormente. Un terzo ingrediente per massimizzare quelle che sono le tue chance di rivederla e di arrivare ad un appuntamento che abbia delle premesse concrete è quello di mostrare alla ragazza durante l'interazione che è il cazzo e questo è quello che non fanno moltissimi uomini perché vogliono rimanere in quella che è un po' la loro zona di comfort per cui fanno una conversazione amichevole ma alla fine la ragazza esce fuori da questa interazione senza sapere se loro avevano un pisello o meno. Quindi inizia ad inserire questi tre ingredienti all'interno di quelle che sono le tue interazioni e in metodo messaggi ti spiegherò tutte quelle che sono le tecniche che possono aiutarti a massimizzare quelle che sono le tue chance di prendere un numero solido perché il lavoro non va fatto solo tramite messaggi ma va fatto a monte. Il primo rimedio, la prima panacea per prendere numeri solidi e quindi che ti rispondono ai tuoi messaggi sono interazioni solide. Ehi, fermo lì! Prima di andartene ricordati di iscriverti al canale e di andare a guardare subito i video gratuiti che ho creato per te sulla seduzione via messaggi. In questi video ti mostrerò vari screenshot di chat commentate passo passo dove ti mostro come sia possibile portare ad appuntamenti ragazze che inizialmente non rispondono ai tuoi messaggi e trasformarle in ragazze che non vedono l'ora di uscire con te. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.